Succede anche questo in Calabria, avere i soldi e non sapere come spenderli. Tra questi fortunati c'è la regione Calabria che non sapendo evidentemente come investire quasi 600.000 euro destinati agli interventi per contrastare l'andrangheta nella terra dei clan, li ha spostati su altri capitoli di spesa, sicuramente meno caldi ed urgenti, che nel dettaglio riguardano i trasferimenti correnti a istituzioni sociali private, trasferimenti ad amministrazioni locali, ad altri servizi e contributi agli investimenti ad altre imprese. L'ennesima variazione di bilancio? Non proprio. A rendere peculiare e degna di nota la delibera dell'Aggiunta regionale che pochi giorni fa, precisamente il 10 agosto, ha deciso il dirottamento di quei soldi, è proprio la natura delle risorse e la loro destinazione originaria. Si tratta di ben 586.500 euro complessivi e destinati alle spese per interventi volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno mafioso. Fondi discendenti dalla recentissima legge regionale numero 9 del 26 aprile 2018, che sull'onda dei gravi fatti di mafia degli ultimi anni è stata varata con grande enfasi e clamore, dal Consiglio regionale e primo firmatario Arturo Bova. Nella regione patria dell'Andrangheta nessuno però ha saputo come investire le somme previste. L'Aggiunta così, al fine di evitare i rilievi da parte della magistratura contabile in relazione all'ottoimperanza e alle disposizioni legislative e regionali, ha disposto una variazione di bilancio. Ne consegue che in Calabria la sicurezza, come al solito, può attendere.